Messaggio della Madonna 22 settembre 2018 Per tanti di questi figli miei io non sono amata neanche rispettata e mi preoccupo col mio cuore pieno di dolore per la felicità e salvezza eterna di ciascuno di loro. Pregate per gli increduli, pregate per quelli che hanno i loro cuori induriti come pietra, figli miei, perché si convertono e aprono i loro cuori al Signore. Grandi sofferenzi stanno colpendo le varie nazioni che hanno deciso di vivere senza Dio, non obbedendo ai Suoi comandamenti. Non rimanete sordi alla Sua chiamata santa che Lui vi fa per mezzo di me. Dio vi ama e desidera ardentemente la felicità di ciascuno di voi. Nulla di questo mondo si paragona alla gloria che Dio considera a coloro che gli saranno fedeli e obbedienti alla Sua voce. Lottate per il Regno dei Cieli, supportando le prove e dolori e le sofferenze di questo mondo per amore a Dio e per la salvezza delle anime. Dio è felice con la vostra perseveranza in rimanere nella Sua via santa anche dopo tutte le sofferenze e dolori che voi supportate per Suo amore. Tutto sta a essere usato per la realizzazione dei piani divini e per l'ingrandimento della Sua opera d'amore nelle anime, per la vittoria del bene sopra ogni male. Io mai vi abbandono e mai vi abbandonerò. Ricevete la mia benedizione e il mio amore di madre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amém.